Le Camere di Commercio in tutta Italia sono impegnate su questi temi, sulla sostenibilità perché noi siamo tra i primi che abbiamo favorito l'economia circolare, per esempio abbiamo degli accordi con Simbola, ogni anno abbiamo il nostro report sulla green economy e credo che la nostra attenzione al mondo dell'economia sostenibile sia quotidiana. Il turismo per noi è materia quotidiana perché in tutte le Camere di Commercio il turismo è all'ordine del giorno, noi abbiamo delle risorse dedicate esclusivamente al turismo anche perché il turismo è un settore assolutamente trasversale a tutti gli altri comparti, interessa all'artigianato, interessa al commercio, interessa all'industria, interessa all'agricoltura. Ovviamente in questo periodo il turismo è uno degli ambiti che ha subito di più durante la pandemia, oggi è in forte ripresa, bisogna sostenerlo e soprattutto attualizzarlo. che intendiamo per attualizzarlo? Far sì che il turismo abbia in sé la digitalizzazione, cioè dobbiamo creare questa nuova frontiera in cui la tecnologia deve essere di ulteriore supporto a un settore che prima del Covid faceva il 13% del PIL ma che potenzialmente può arrivare al 20% del PIL.